Nel incontro di oggi presso l'Ambasciata Americana di Roma abbiamo sostanzialmente ridefinito i confini di questa collaborazione insistendo sull'importanza della ricerca di base ma anche della ricerca applicata e della ricerca aperta alla società e all'industria. Io credo che da questo seminario usciranno spunti molto importanti sia per la comunità scientifica e per i giovani italiani sia per i colleghi americani. Well all ideas that ultimately become commercialized come from somewhere and when you spend money invest money in basic research you learn a lot you learn about ways in which you could do things better or improve products or build in health care for example whole new products you can't do that easily without a substantial amount of research going forward so the connection from research to how you apply it in a commercialized way is very important. So more you increase research the more opportunity you'll have for innovation and development and creation of new companies and jobs which is what the end result should be. È una collaborazione quella fra Italia e Stati Uniti di lungo termine molto proficua che riguarda non solo gli scambi commerciali e le relazioni politiche ma anche e soprattutto la formazione, mondializzazione e l'alta formazione, la scienza. ... ... ... ... ... Grazie a tutti.